Le sconfitte in una stagione sportiva possono sempre capitare, ma quella di domenica scorsa, successa alla polisportiva Bitonto, è davvero dolorosa e ha fatto veramente rumore. Non portata a casa la Coppa Puglia, sfuggita all'ultimo metro in quella di Cisternino il giorno dell'Epifania, anche l'obiettivo primario della stagione, il campionato, diventa improvvisamente più complicato di quello che ci si potesse aspettare. Perché nel big match, che valeva una grande fetta di Serie A2 davanti al pubblico amico, le leoncelle di mister Danilo Danisi sono state sconfitte dal San Michele per 3-2, perdendo non solo l'imbattibilità, ma anche la vetta solitaria, facendosi raggiungere proprio dalle ragazze del coach Di Tommaso a quota 45. Una sconfitta inaspettata e talmente fragorosa che ha visto il patron Silvano Intini abbandonare il parquet proprio al fischio finale e Danisi usare parole dure a fine contesa. Abbiamo provato in settimana a fare altro, purtroppo non ci è riuscito, abbiamo giocato troppo individualmente, troppo su iniziative singole, questo è uno sport di squadra, non lo invento io, se l'avessi inventato io mi si poteva dire qualcosa, io mi adeguo a quello che è lo sport, abbiamo scelto di fare uno sport dove si gioca in 5, quindi si deve cercare di vincere in 5. Troppe iniziative personali, troppo provarla a vincere o a recuperarla da soli, per quanto possano essere tutte brave nell'uno contro l'uno, si può saltare l'uomo, tutto quello che si vuole, però purtroppo ho già vinto la squadra che giocava meglio di squadra. Eppure la gara si era messa pure sui binari giusti con le neroverdi che nel giro di pochissimi minuti si sono ritrovate in vantaggio di due gol, doppietta di Chiara Russo, ma che poi sono sprofondate nel più brutto dei film horror, prima venendo risucchiate con il pareggio e poi definitivamente scavalcate nella ripresa. Tutto, ma proprio tutto è ancora in gioco, ma bisogna ripartire già da domenica con la trasferta di Canosa e prendere coscienza che la sconfitta è solo un incidente di percorso, magari salutare per raggiungere l'obiettivo prefissato già in estate. Senti, logicamente questo significa che da domani mattina rimboccarsi le maniche e pedalare? È stato sempre il mio credo, io non ho mai, anche nella vita, ho sempre prediletto lavorare, lavorare al parlare, quindi forse ho già parlato tanto in questi scarsi due mesi che sono su questa panchina, vorrà dire che tornerò al mood di prima, parlare meno e cercare di lavorare di più, perché l'unica strada a me conosciuta è quella di riprendere ciò che non va. Grazie.